Transizione ecologica. Le parole di Beppe Grillo hanno riportato questo dibattito assurdo sulla crisi di governo a contenuti veri e concreti. Non serve solo la transizione energetica, che è fondamentale, certo, uscire dai combustibili fossili e andare a 100% rinnovabili. E io che ho fatto il conto energia sul fotovoltaico non posso che essere un fautore di questa tesi. Ma la transizione ecologica è di più, è la riconversione ecologica della società e l'economia, è l'attenzione alle smart city, è la mobilità sostenibile, è la capacità di pensare alle esigenze dei nostri habitat naturali, come chiedono le associazioni guidate da Rosalba Giugno di Marevivo e come chiede il Pontefice con la Laudato Sì, per quando parliamo di ecologia integrale parliamo davvero di come vivere sani in un mondo pulito. Quindi grazie a Beppe Grillo per aver riportato il tema centrale di come spendere le risorse next generation, Green New Deal, devono servire alle prossime generazioni, devono servire a contrastare un cambiamento climatico che rischia di essere catastrofico e grazie a questo intervento di oggi il tema del nuovo governo, il tema di come i soldi che saranno destinati al nostro Paese siano spesi per creare occupazione sicura e transizione ecologica e non soltanto per essere spartiti tra gruppi di potere tradizionale.